Buongiorno, perché credo che sia prematuro passare alla fase 2 in Valle d'Aosta? Intanto perché solo con l'ok delle autorità sanitarie si può individuare una fase di ripartenza seria e concreta. La scienza ha certamente la priorità. Questo perché dobbiamo scongiurare il collasso del servizio sanitario regionale, che può contare su un unico ospedale. Perché bisogna assolutamente evitare e prevenire il ritorno di una seconda fase di pandemia. Perché in Valle d'Aosta il primo caso lo abbiamo avuto l'8 marzo, ben 10 giorni in ritardo rispetto alle altre regioni, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Perché solo da pochi giorni in Valle d'Aosta si è arrivati ad una sorta di stabilizzazione e quindi non è ancora iniziata la fase discendente. Perché ritengo che sia meglio essere prudenti e per altri 10 o 15 giorni stare nelle proprie casi per poter tornare poi a una pseudonormalità. Normalità che dovrà comunque contenere tutte le indicazioni di restrizione che saranno previste. Perché credo che la salute abbia la priorità su tutto e quando una comunità è in salute può rilanciarsi, può ritornare a lavorare e sono certo che lo farà. Mi rivolgo ora ai commercianti, agli artigiani, alle piccole imprese ma soprattutto alle famiglie che hanno i bimbi piccoli e alle famiglie che hanno dei disabili in casa che so che stanno patendo. Per questo non posso far altro che ringraziarli per l'impegno, l'abnegazione che stanno mettendo in questa fase estremamente delicata. Si sta combattendo con un nemico invisibile, non lo conosciamo. Per contrapporci non abbiamo armi, non abbiamo vaccini se non tutta l'energia della sanità di questa regione. Energie che sono state messe in campo tutte, che si sono prodigate per salvare le persone e vi assicuro che ne hanno salvate molte. Alcuni medici, infermieri e operatori sociosanitari, oltre alle tante altre professionalità sanitarie, hanno lavorato dando il meglio di loro, senza orari e talvolta sacrificando la loro famiglia. Questa collettività non potrà fare a meno di dire loro grazie a lungo. Parliamo di oltre 2.000 persone e alcuni di loro hanno anche contratto il virus. Attenzione, quello che sta succedendo in Corea e in Giappone, ma anche in Cina, con i ritorni del virus ci deve mettere in guardia. Concludo dicendo che è meglio essere prudenti per scongiurare il ritorno di un altro picco che ci metterebbe in condizione di drammatica difficoltà. Si tratterà di attendere questa settimana nella quale ci saranno tutti gli approfondimenti per valutare se dopo il 4 maggio potremo aprire e in che modo. Quindi vi invito davvero a pazientare e a rimanere a casa.